Valentino Rossi contro Marco Biaggini e chi sta davanti? penso al solito Valentino chi è questo? Valentino Rossi sta davanti come al solito Rossi Biaggin secondo però Rossi su Honda Biaggin su Yamaha e sempre Rossi davanti però in quel caso Valentino era la moto più potente che a Yamaha allora non era molto non era una gran cosa Rossi ha fatto diventa forte la Yamaha quando è entrato di Yamaha vai sempre Honda davanti con Valentino Rossi sulla Honda era più facile vincere con la Honda e dai oh no Valentino Rossi che sta sempre davanti Valentino Rossi Valentino Rossi non è Valentino Rossi comanda la gara chissà se Youtube dopo mi blocca questo video e non mi fa vai 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 comunque questa gara la vincereà Valentino come al solito sicuramente Max Biaggin dietro Valentino Rossi davanti Forza Valentino è caduto qualcuno o cinese non ha un po' versure suonate buona suonate per サム non ha una